ragazzi il conte sta scroccando anche alla sagra dei fritti sì che qua ci conoscono devo dire però accontentati accontentati ma questo è gratis siamo la regina del mare la sagra dei fritti ma è tutto gratis questo pesce che ti stai mangiando o no? ah noi facciamo condurissimi perciò no vabbè ragazzi io tutto a posto tutto a posto guarda che meraviglia ragazzi ma no così arrivederci grazie andiamo che brutta figura andiamo andiamo che malacombassa andiamo come sta facendo fare brutta figura ancora prima del palco ancora prima del palco vabbè ragazzi non mi ascolta basta no vabbè ma ma hai pagato no vabbè ragazzi a dopo ragazzi adesso siamo in uno stand della carne ma è gratis anche qua gratis tutto gratis tutto gratis ma qua proprio abbiamo fanno una mannata al cielo per noi anche non si sa sezza no vabbè si ma devo mangiare anch'io ti ricordo che c'è 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 non ne voglio carne io non ne voglio carne venite qua che buonissima com'è 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 dove siamo fratelli puglia fratelli puglia da lui fratelli puglia buonissima guardate 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 che cipolla no vabbè vabbè ragazzi a tra poco a tra poco perché noi continuiamo il tour ancora è presto per il palco quindi continuiamo il tour no grazie no vabbè carne di cavallo scelto vabbè ragazzi a dopo perché penso che non arriveremo sul palco integri puliti scelto vabbè a dopo